segnalazione di marcia del motore tramite relè dell'altiver 320 per impostare il relè r2 come segnalazione di marcia del motore bisogna accedere al menu configurazione premendo il selettore rotativo e ruotando fino a cercare conf premendo il selettore rotativo entriamo e cerchiamo il menu completo full entriamo sempre premendo il selettore rotativo e cerchiamo il menu ingressi e uscite io entriamo premendo il selettore rotativo e cerchiamo la configurazione dell'r2 ovvero r2 entriamo premendo il selettore rotativo entriamo nell'assegnazione r2 e cerchiamo run confermiamo premendo il selettore rotativo a questo punto è possibile uscire fino al menu principale alla scritta ready a questo punto il relè r2 che è normalmente aperto si chiuderà al comando di marcia del motore e si riaprirà solamente a fine della decelerazione terminato l'arresto